Dal 16 al 31 marzo 2022, presso la sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, è allestita la mostra Ecce Omo, il Vangelo nelle opere di Andrea Guida. Un percorso quaresimale attraverso le opere del primo periodo dell'artista meridionalista, scomparso nel 2016 all'età di 90 anni, che con la sua denuncia artistica raccontò l'umanità e la sofferenza della civiltà contadina descritta da Carlo Levi nel libro Cristo si è fermato a deboli. Fuori dai temi che hanno caratterizzato la sua arte pittorica, la mostra racconta attraverso il dramma delle figure la passione e la morte di Cristo quale spaccato del dolore e della sofferenza che coinvolge l'intera umanità. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del programma del Festival della Teologia Incontri, realizzato nel mese di agosto nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, su iniziativa dell'Azione Cattolica e dell'Associazione Fabbrica di Idee, con il patrocinio anche dell'UXI Campania e della stessa Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. La mostra itinerante, realizzata in collaborazione con la Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia, dopo le tappe estive ad Agropoli, Caggiano e Teggiano, conclude così il suo itinerario proprio nel complesso San Luigi a Posillipo. Evento finale dell'esposizione sarà il convegno La ricerca dell'umano, la scoperta del divino, in programma il 31 marzo alle ore 17, che vedrà la partecipazione del decano della sezione San Luigi, padre Mario Imperatori, della Presidente dell'Azione Cattolica di Napoli, Maria Rosaria Soldi, del figlio di Andrea Guida, Antonio, del direttore della Scuola di Arte e Teologia, padre Jean-Paul Hernández, e della condirettrice Giuliana Albano.